Iiii! Eccomi qui cari amici, come direbbe il famigerato Padre Libio E sono orgoglioso di aver raggiunto questo risultato Finalmente è venuto il momento di assaggiare il finale nella modalità plus Dopo aver tenuto con una fatica bestiale il livello 50 Finalmente l'abbiamo raggiunto, sono riuscito ad entrare in partite con degli smanettoni come me Assatanati proprio di questo gioco E ripercorrendo soprattutto le sfide finali o alcuni momenti in cui si livellava per esempio ad Opportunity E ripetere queste cose per livellare è stata una cosa, veramente una pazienza Una pazienza da primato e soprattutto da beta tester Che sono costretti a subire vari tipi di sopprusi nel ripetere continuamente una stessa cosa Però il risultato è stato vantaggioso E quindi abbiamo ottenuto l'esorbitante cifra di 67.000 punti vita 55.000 di scudo Vi faccio vedere un po' di armi Un pochino di armi Il fucile da cecchino da paura 24.394 danni Elettrico Il fucile d'assalto invece corrosivo 5.582 La pistola 10.664 Fuoco E il pompazza Con l'esplosivo Quindi abbiamo tutti gli elementi Scudo Elettricità Corrosione Fuoco Ed esplosione Quindi possiamo oltre a una serie di altre armi Tra cui il mitico Dove è finito? Questo qua è una cagata Vabbè devo buttare questa roba Dove è finito? Un attimino che lo piglio 88.705 per 3 Ok E l'altro invece Che l'ho anche tenuto Dovrebbe essere da qualche parte Ah eccolo 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 Poi ovviamente Tanti tante aggiunte Che ho dato al personaggio Tanti tanti punti abilità Fra cui L'abilità uccisione Che dà alcuni esperimenti Molto importanti Che bisogna sbloccare subito Fra cui La possibilità di sottrarre Per un breve periodo Ovviamente L'energia dei nemici Il danno Fare un danno fuoco E corrosivo Gli nemici che si Avvicinano Deviare proiettili E rispedirli al mittente E un bonus Alla velocità di ricarica E la ricarica Dello scudo Ovviamente dopo che Si spaccano Alcuni nemici E nonostante tutto Nonostante tutto Questo casino Vi assicuro Che non basta Come potete vedere Gli basta un attimo A questi tizi Per farmi secco E per abbattermi Lo scudo Questi sono livelli Questi sono livelli 49 Qua non Non stiamo Facendo Grattando La buccia Delle angurie Questi ragazzi Spaccano a bestia Guardate Mi stendono Rendetevi conto Cosa significa Mi stendono Che È veramente Assurdo Signori Puoi giocare da solo Giocare in copo Ovviamente Sono molto più forti Però Magari Ci sono questi uomini Che ti danno una mano Un altro spacciato Vedi Vedi Questa è l'abilità Super figa Che ti fa fare Un casino di danni Aumenta La velocità Il rateo di fuoco In maniera Allucinante E poi A livelli alti Non crea Il blocco di fase Ma Costringe gli nemici Ad attaccare Quel Il personaggio indicato E Addirittura Una volta che si scarica Ha il 100% Di probabilità Quindi succede Di trasferire Il blocco di fase Ad un altro nemico Oltre ovviamente A aumentare Il rateo di fuoco Un'altra serie Di smazzate Però Quando Quando aumenta Il rateo di fuoco E aumenta i danni E soprattutto Vedete Adesso non vedo Il personaggio Però il fabbord Mi ha detto Che si vedono Le ali infuocate E quindi Creo danni corrosivi Al solo Mio passaggio Troviamo il pompazza A questo punto Ecco il pompazza Che agisce Vedete Che Sto facendo danno Ok Perfetto Ragazzi Questo Sono raggiunti Da venire Nei momenti Epici E entusiasmanti Gli faccio Un bel po' di danno Ah poi vedete L'attacco corpo a corpo Che ha Al primo oggetto Lancia questa Onda energetica Pallonzoluta Con elementi corrosivi All'interno Quindi Anche di Spacca bestia Ovviamente Necessita tempo di ricarica Nel frattempo Fa Un attacco corpo a corpo Standard E quindi Vediamo Se Mordecai Sono tornati Eccoli qua Attenzione A questi Scisti Ragazzi Grazie Il bandito Ha fattuto Il mio scudo A veri Eccolo qua Io ho tolto Lo scudo Con il cecchino Elettrico Adesso posso Interagire Ecco Brick Attenzione Mi dica Questa cena L'abbiamo già vista Però E quindi Stacco un po' Andiamo Pronto Prontissimo Prontissimo Ok Da questa parte C'è qualcuno Siamo a noi Intanto lui Ovviamente Spacca I caricatori MP Io Me ne sto un po' Lontano Non mi dietro Subito Sulla mischia Ok Posso essere Fotte Quanto volete Però Ok Arriviamo Arriviamo Ragazzo Cazzo Fammelo fare a me Questo è per l'uccello Allora Meno male che si rigenera Velocemente Anche perché Con tutta la capienza Che c'è Che che rompe Qua Allora C'è chi Niamo a sangue Chi è che rompe Ah Volevo farvi vedere Anche lo scudo Lo scudo Ovviamente Capienza 40.000 Però Importante Aumenta di 13.000 La vita E 45% Le resistenze Elementali Che È una figata È davvero Davvero una figata Ed è quello Che ricercavo E che ho trovato Allora Andiamo Ancora Proseguiamo Chi è Ecco Gli ho tolto lo scudo Adesso puoi farci Ecco Gli toglio lo scudo In un attimo Questo è un nemico Corosivo Vedo Questi che sparano Ah però Sì è vero Dovevo togliere Da solo Mi è Il mio scudo è giù Il tuo scudo è giù Siamo andati Cisti Cisti Ah ecco Vedete Si è trasferito Il È ancora operativo Tra l'altro Ecco Questi mi fanno Questi sono Un devasto Il caricatore RPG Questi ovviamente Corazzati Il corrosivo Sta a pennello Vediamo Chi c'è ancora Brick ovviamente Fa ancora più male Di prima Aspetta che mi stava Ragazzi Muovetevi Che quella Con le robe lì Non le posso stendere Assolutamente Non le posso stendere Ah però Arrivano altri Ecco Quelli ovviamente Mi do da fare Con gli altri Questo super caricatore Vai Si è trasferito Aumento di rateo Aumento di energia Sfide continue Benissimo Danni A profusione Arrivo Arrivo Granata Attenzione La granata Ah non vi ho fatto vedere La granata Giusto La granata 72.569 Dando Da panico Allora Questi ovviamente Continuano a smazzarmi Io mi riparo Affinché non Disattivano Questo Schipo Intanto Ti do una mano Giusto Fermati là Fermati là Esatto Caricatori Livello 51 Ok Brick Eccolo Ce l'abbiamo fatta Minchia E la fine Adesso Voglio proprio Farvi vedere Quanto cacchio Costa Ressuscitare A questi livelli Guardate Quanto Mi ciucciano Di denaro Guardate Quanta grana Va Ai soldi Delle Dei barion Ecco 37.778 Solo Solo Allora Questo era Veramente Un rapido Excursus Si dice così Esattamente Per visualizzare Un pochino Queste situazioni Critiche Farvi vedere Il personaggio A livello alto Farvi vedere Veramente L'apoteosi Delle armi Poi ovviamente Ci sono tantissime Io non so Magari ci sarà Roba ancora più potente Livello 50 Però diciamo che abbiamo già raggiunto un ottimo livello Vita da panico Scudo da panico Granate da panico Tutto da panico Ed è questo davvero E difficoltà soprattutto da panico Come potete vedere Nonostante tutto Questo elogio della potenza Mi fanno ancora un culo Che è vergognoso Ed è questo il livello di sfida Che tutte noi persone cerchiamo Ok Quindi saluti E mi raccomando Quando raggiungete questi livelli Epici Datene testimonianze Perché la gente vuole vedere L'armamento E la potenza Ok Saluti Iiii E l'armamento E l'armamento E l'armamento Grazie a tutti.